Parliamo di mutamenti climatici e degli effetti sui ghiacciai con esperti e docenti universitari. Siamo saliti fino alla cima del calderone dentro il massiccio del Gran Sasso, diventato il simbolo della sofferenza delle riserve idriche. L'inviata è Giulia Serenelli. Non c'è più acqua sul calderone. Quello che era il ghiacciaio più a sud d'Europa è ormai ridotto ad un fazzoletto dove c'era neve e ghiaccio in estate e in inverno. Ora ci sono solo pietre. Qui siamo nella conca di quello che resta del ghiacciaio del calderone che un secolo fa arrivava in cima a quel livello e strabordava al di fuori. Nel cuore del Gran Sasso è il simbolo del surriscaldamento globale destinato a scomparire una fotografia impietosa dei cambiamenti climatici. Negli ultimi vent'anni stima la rivista Nature 220 mila ghiacciai hanno perso quasi 300 miliardi di tonnellate di ghiaccio all'anno paesaggi che scompaiono riserve idriche che diminuiscono. Sono una sentinella fondamentale di questo problema del cambiamento climatico che ha impatti fondamentali su tutto tutti gli ecosistemi sulla biodiversità. Oggi esperti docenti rettori di una decina di università e il CAI sono arrivati fin qua su al ghiacciaio del calderone un'escursione per lanciare un appello per il contrasto alla crisi climatica. Facendo fatica per arrivare qui riusciamo ancora a gustare questi panorami che francamente non sappiamo per quanto tempo ancora avremo modo di considerare. Vedere da vicino quello che ci sembra lontano, gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto i nostri occhi. Dovremmo in un certo senso dire è colpa mia, è colpa mia che non chiudo il rubinetto dell'acqua, è colpa mia che prendo la macchina per fare 50 metri, è colpa mia se lascio la luce accesa. Noi distruggiamo il pianeta.